Salve regà stasera parliamo della Juve parliamo della Juve e le sue finali che tutti questi juventini rompono il cazzo con queste finali che abbiamo perso l'avessimo vinto l'avessimo perso di che cazzo stavo a parlare? ma di che cazzo stavo a parlare? di che cazzo stavo a parlare? c'è qualcuno, più di qualcuno che molti poi commentano avete visto l'ultimo video che ho fatto con Torodoro ho fatto 46.000 visite ma non è poco per uno che appare molto meno di prima a tutti mi davano del fallito che ormai ero finito invece le visite come esco fuori ho messo i like, i commenti cosa che io non metto più tra due video ho fatto 70.000 visite in due video molti invece devono fare 50 video per fare 70.000 visite comunque non me ne frego un cazzo perché io su queste cose non mi sono mai atteggiato, dato le aree mai, e mai c'ho 16.000 iscritti e non ti puoi manco iscrivere sul canale mio, sapete che YouTube, io ce l'ho bloccato YouTube, io ce l'ho sugli iscritti ce l'ho tu provi a fare l'iscrizione non te lo puoi iscrivere non te lo permette ok? per i motivi che c'ha avuto a fine giugno comunque, a parte questo tutti questi intenditori di calcio che difendono allegri difendono allegri a me, vedete che c'è io io non io non mi capacito perché la cosa che io penso che veramente molte persone del pallone non so come cazzo lo vedono come lo intendono il pallone il pallone è uno sport è un gioco che tu devi giocare per arrivare alla porta e segnare cercare insomma di dare anche un gioco di far vedere un qualcosa di bello spettacolo all'epoca io quando molto più giovane dei tanti che dicono stronzate tanti quando all'epoca c'era Maradona Platini Zico all'epoca che erano grandi campioni grandissimi fuori classe erano come il Messi di oggi Ronaldo Neymar gente così e poi dopo è arrivato pure Gullit Van Basten sta gente qui insomma c'era tanta tanta roba in Italia tanta roba andavi a vedere delle partite perché c'erano questi campioni perché c'era lo spettacolo perché ti facevano divertire poi se vinci e perdi va bene uguale non conta si conta la vittoria ma conta che il pubblico si diverte vai a vedere il campione la giocata del campione la squadra che gioca bene non a vedere una mummia una squadra che è una mummia tutte le domeniche tutte le domeniche è una mummia questo non è calcio questo non è calcio ok questo per chi capisce di calcio non è calcio ok soprattutto la Juventus che è una squadra che ha molti campioni molti giocatori forti la squadra attrezzata la più attrezzata in Italia che ha due tre panchine ok e il Napoli sta a fare i miracoli perché il Napoli gioca sempre con 13 undicesimi gioca sempre le medie in campionato perciò a differenza della Juve che può fare molti cambi e non solo perché la Juve che ha giocatori spesso che si sfasciano se fosse il Napoli con giocatori del genere che si sfasciano a questione del Napoli il campionato già l'aveva chiuso purtroppo noi abbiamo la Juve abbiamo dei preparatori atletici che sono veramente peggio del Geppetto peggio del Geppetto ecco perché abbiamo sempre i giocatori sfasciati ma meno male che la Rosa è lunga abbiamo molti ricambi perché sennò stavamo veramente a lottare per la retrocessione perché funziona così ok perché il Napoli il Napoli che il Napoli non gli si sfasciano a un giocatore è raro come ho detto perciò tu che capisci di pallone e sai che la Juve ha una rosa lunga e dici che la Rosa ha visto la Juve però può cambiare questo può mettere quello non c'è sta problema ha visto tanto mette quello mette quello tanto è uguale ha visto si può permettere il quadrato Di Bala Manzudici in panchina tutti qualsiasi tutti in panchina si potrebbe e gli altri giocano uguali perché ha tanti ricambi allora se tu capisci di calcio e mi parli di questo e poi mi dici che Allegri è un grande allenatore tu non capisci proprio un cazzo di pallone quello è il problema tuo perché ha tanti giocatori forti tu metterlo a Napoli Allegri e vedi che si sfascia tutto il Napoli e fa la fine termina la fine termina ok la fine termina ha vinto quello scudetto perché c'era un sacco di giocatori forti l'anno dopo qualcuno è cominciato a andare via tipo Pirlo che l'ha cacciato via lui proprio la sfanculata ecco l'ermina che ha cominciato a fare cominciato a perdere colpi e l'Inter è già sparita in quel periodo la Juve non era quella Juve che hai capito due settimi possi immaginate insomma hai capito come si è fatto fotte un campionato dalla Juve da Conte senza mai perdere una partita e Allegri ci sputtano c'era un percasso per Gode Montali ci fece un casino montò un casino ma questi tanti giuventini non se lo ricordano non se lo ricordano perciò veniamo alle finali alle finali allora le finali tanto per cominciare non sono vittorie non sono trofei ve lo dovete mettere dentro sta cazzo del zucca del merda non sono trofei perché nell'albo d'oro non ci sta scritto Juventus perché quando vai a vedere l'albo d'oro della Champions League ci stanno tutte le squadre che hanno vinto non ci sta messo primo ha vinto il Bayern e il secondo arriva da Juve o prima il Barcellona e il secondo arriva da Juve non ci sta la seconda non esiste non ha vinto un cazzo ok mettetevelo in testa le finali non sono trofei però ci siamo arrivati non me ne frega un cazzo perché tu quando arrivi in finale devi vincere o almeno te la devi giocare ok cosa che è successo con il Real Madrid l'ultima passata che non se la siamo giocata significa che il primo tempo con quel Real Madrid che secondo me era battibilissimo dalla Juve primo tempo forse superiori noi a loro un pochino superiori noi come gioco secondo tempo Allegri ha avuto la geniale idea di giocare in contropedio e arroccasse perché lui gioca così così ha perso allora Allegri ve l'ho detto pure nell'altro video questa è l'ottava partecipazione che fa in Champions l'ottava l'ottava ha perso con il Totten si è fatto un punta fuori dal Barcellona dal Barcellona poi si è fatto arrivata in finale ha perso con con il Barcellona ok poi arrivata all'ottava si è fatto butta fuori da che cazzo era oddio non mi viene in mente allora aspetta 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 mi sono perso un attimo mi sono perso Totten Barcellona Barcellona poi è arrivata in finale l'altra volta con ah no è arrivata ah no è arrivata agli ottavi perché fu esonerato agli ottavi era arrivato però l'hanno esonerato perché fece schifo poi l'altra volta con la Io con il Barcellona in finale si è fatto romper culo e non mi dite che Barcellona meritò perché giocò molto meglio di noi e i primi 15-20 minuti Barcellona ci è presa pallonate e non conosco se stava 3-4-0 di vantaggio non aveva rubato un cazzo perché in quel momento noi in quei primi 21 ci avevamo proprio capito un cazzo ecco uno poi è uscita piano piano la Juve ma non è che era uscita questa grande Juve ha fatto due tre spazi ma la partita l'ha fatta sempre Barcellona poi ha perso con allora Barcellona poi ha perso con agli ottavi col Bayer ok poi abbiamo perso con con Real Madrid perso finale la finale di merda persa a cazzo di cane e adesso sto con il Tottenham questa è l'ottava l'ottava è l'ottava è l'ottava che fa l'ottava Champions allora sicuramente sicuramente no perché voglio essere pessimista sicuramente usciamo sicuramente usciamo perché come ho detto per vincere lì devi fare un'impresa devi fare proprio un'impresa e io questa impresa in Inghilterra non la vedo proprio non la vedo perché gli inglesi in casa loro diventano animali diventano animali perché giocano fino alla morte se tu avessi fatto noi avessimo fatto la partita prima in Inghilterra e poi ritorno qua allora può essere pure amo molte più chance ma siccome l'abbiamo fatta prima in casa e ora andiamo là quelli capirai quelli quelli attaccano pure che stanno 2-2 non fanno come la Juve che se via e se ferma e si accontenta del 2-0 e poi si fa romper culo si fa riprendere si fa fa du go e addirittura poterono vincere pure loro alla fine poterono pure vincere perciò queste finali che voi tanto elogiate che cazzo dei finali non contano un cazzo non contano un cazzo non contano nulla ok non sono trofei soprattutto l'ultima che ha perso la potevo ammettere la prima la prima il Barcellona la forte vabbè ma questo Real Madrid quello che abbiamo incontrato non era forte tutto sto cazzo del Real Madrid perché si è dimostrato che nel primo tempo stava la pare con noi se non meno ok lì Allegri si è cagato sotto come il Bayern Monaco che avete visto 2-2 in casa abbiamo fatto poi 2-0 stiamo a vincere e poi alla fine ha tirato ha levato gli attaccanti ha tirato si è messo in difesa perché voleva reggere quel 2-0 che ci è costato 2-2 poi mi dicono eh però se Evra ha fatto quello non ha capito è l'atteggiamento porca puttana è inutile che tu dici la sfortuna la fortuna un cazzo la sfortuna la fortuna te la devi creare perché se tu mi fai giocare in difesa mi fai giocare è facile che puoi fare l'errore metti in apprezzione difensore o chi che sia e fanno le cazzate e quelli ti segnano perché hai paura giochi con la paura e Allegri è un cacasotto un cagon di merda perché è questo che Allegri perché Allegri una partita affrontata a Visapetto l'avrà fatta 4-5 in 4 anni che gioca Caio 4-5 l'ha fatta a Visaperto 4-5 so proprio poche pochissime pochissime perciò non mi rompete il cazzo Allegri come allenatore non capisce un cazzo non sa non sa tenere la squadra come come Cristo comanda ha in mano una Ferrari e cammina come la 500 è una lumaga tu i vedi giocare vanno molto lenti sono lentissimi lentissimi ieri sera mi sono visto Real Madrid con il Paris Saint Germain allora vedevo una partita veloce anche se Real Madrid che ha vinto con il Paris Saint Germain secondo me non passa secondo me passa il Paris Saint Germain perché il Real Madrid ha avuto un rigore proprio generosissimo Ronaldo ha segnato che gli ha sbattuto la palla col ginocchio il portiere ha tirato sul ginocchio dell'impalla a buttare dentro e il terzo che ha fatto Marsello l'ha fatto con una doppia deviazione lì pure hanno sculato hanno vinto 3 a 1 però hanno avuto tanta tanta fortuna e non penso che questa fortuna li aiuterà a Parigi non credo perché Parigi come squadra è più forte è più forte secondo me è più forte come squadra e a Parigi lo dimostrerà perché qui a Madrid se ne è giocata ok a Parigi a Real gli fa un bucio da culo così secondo me vince il parigi di Germania poi ognuno può pensare come gli pare comunque ritornando al fatto di Allegri Allegri allora questo allenatore è considerato da tanti un grande allenatore non è un grande allenatore questo ha avuto la fortuna la fortuna che ha preso la scia di Conte mettetevi una dentro la stazucca del merda perché voi non capite in cazzo perché è stato Conte l'artefice di riportare la Juve dove sta adesso perché è stato lui ha portato la Juve dove gli deve competere ok allora Allegri prende la Juve tiene la Juve e fa tutto non solo ha preso pure Morata arrivò Morata che Morata fu molto molto determinante in quel periodo con la Juve fu determinante perciò prese pure Morata che lo volle Conte alla fine alla fine doveva via i due giocatori per rinforzarla per giocarsi la Juve e non li ha riprese però che è successo è successo che Allegri ha preso in mano già una macchina rotata ha continuato a giocare col tipo del gioco dei conti e la squadra andava da sola l'impegnamento ha fatto 108 punti in campionato è arrivata in finale ve lo ripeto è arrivata in finale perché perché il Dortmund stava ultimo in classifico l'ottava pari di processione i francesi mi ricordo Armona come pari stavano non so non era la squadra tanto per la e stavano passati pure a culo il Real Madrid non era quel Real Madrid ok e il Barcellona è la squadra più forte era infatti si è visto perché il Barcellona quando l'abbiamo incontrato ci ha preso a schiaffi tutte le parti perché il Barcellona a quella partita se la vinceva 4 a 1 5 a 1 non aveva rubato un cazzo come la vedo io perché è una squadra più forte perché quando il Conte perciò è arrivato in finale con una bella dose di culo con squadre che stavano a pezzi con la scia De Conte con la squadra già collaudata c'è riuscita a rivasce ok no perché Allegri ci ha portato un finale ma non rompete il cazzo non rompete questo ci ha portato un finale ma che ci ha portato ha mantenuto quelli i giocatori per i valsa per far vedere che non era solo merito di Conte hanno fatto vedere che era pure merito loro è stato anche quello ricordatevelo poi l'anno dopo che ha fatto eh che ha fatto l'anno dopo si è fatto un punta fuori da che dal 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 Bayern Monaco eh ve lo ricordate al Bayern Monaco ve lo ricordate si 2 a 0 2 a 2 l'ultimi 20 minuti in casa la Juve si è trasformata perché per dire 2 a 0 negli ultimi 20 minuti è diventata la Juve tutta d'attacco è riuscita a segnare a Ducco e addirittura è emozionato il 3 a 2 col Bayern Monaco che perdiamo 2 a 0 in casa e il ritorno che ha fatto ha avuto lo stesso atteggiamento degli ultimi 20 minuti in casa loro una Juve d'attacco è stata una Juve d'attacco e quella Juve fu veramente bella una bella Juve 2 a 0 3 a 0 potevamo stare tranquillamente 3 a 0 un gol ci fu annullato vi ricordate che è un fuorigioco che non c'era però è normale il guardianino lo vede è normale l'arbitro se lo vede se quello lo vede che cazzo fa però il problema è stato quello che tu vai a riposo che stai al 2 a 0 entri in campo e ancora hai i stessi giocatori ok hai quel quel modulo tattico è rimasto quello che fai tu me levi il primo che ha levato non mi ricordo che è stato Morata o Morata dopo 10 minuti me levi Morata e dopo un altro 10 minuti manco me levi il quadrato è finita Juve erano stati i due giocatori che hanno messo gli hanno sbomballato tutto 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 il il baio l'hanno sbomballato non c'è stato a capi in cazzo perché erano quelli che davano maggiormente pericoli alla squadra e giocavano alti loro e il baio giocava più basso perché ripartendo in contropete quadrato veloce Morata veloce loro giocavano più indietro capito come più indietro che ha fatto il genio me levi quei due che succede che il baio sale sale e tu te devi difendere e te la prendi nel culo ok te la prendi nel culo ok come è successo adesso col Tottenham come è successo con con vaffanculo con il Real Madrid come succede spesso con le grandi squadre te la prendi nel culo perché tu non sei un grande allenatore ne manca un grande tu non sei un cazzo perché questo tipo di gioco lo fai in campionato ma in campionato ti dice bene perché le squadre so scureggette so ok invece in Champions ci sono squadre che sono più di livello superiore e poi il Tottenham non è tutto questo grande Tottenham perché è quinto in campionato inglese e Tottenham perciò abbiamo incontrato una squadra quinta in campionato ok e ci ha dato lezioni di calcio se siamo difesi per 65 minuti il 65% se siamo difesi di che stiamo a parlare ha avuto due tre in contropiede giocavamo tu che giochi in casa giochi in contropiede una squadra che gioca in casa dovrebbe dettare il suo gioco purtroppo Allegri non è buono a dettare il gioco non è buono non è buono lui è un difensivista perché pensa sempre di allenare squadrette del cazzo che ha allenato prima ecco perché l'hanno cacciato via dal Milan perché come ha avuto un po' di gente si è levata non ha avuto più quei campioni perché lui vince quei campioni e con le botte che ci hanno insomma che trovano la sfuriata del campione perché se no non vince non vince non vince ok mettetelo in testa io ho sempre detto se Allegri lo mette al Napoli e il Napoli adesso sta primo il Napoli con Allegri settimo ottavo non di più perché avrebbe tutta l'infermeria tutti sfornati e comincerebbe a lottare non solo per il settimo ottavo posto ma pure per la retrocessione perché Allegri è questo è questo ficcatevelo in testa perché Allegri non ha gioco non ha schemi sa solo difendere e cercare di sparare che qualcuno gli ha butti dentro ecco chi è Allegri e le due finali le due finali non so trofeo mettetevelo in testa perché ha vinto tre scudetti e tre coppe beh pure Conte ha vinto tre scudetti e due super coppe cosa che non ha vinto Allegri due super coppe le super coppe le ha perse perciò ragazzi i trofei sono quelli che tu alzi e io i trofei italiani Coppa Italia e scudetto mi sono rotto il cazzo di vedere alzare sempre qui i trofei voglio vedere un trofeo importante ok Allegri ha fatto otto questa è l'ottava partecipazione in Champions e vedrete che sarà un'altra volta un altro fallimento perché questo allenatore anche con una squadra forte l'ho sentito l'intervista l'altro giorno che ha fatto cagare un'intervista che ho detto io se fossi la società lo cacciavo subito via e parla di fortuna di sfortuna dei giocatori tre a zero ma che vi pensate che se vince tre a zero e poi ci sono pure lì avversari oh tu sei la Juve tu sei la Juve punto e basta ciao